Questo vedrà la Corte dei Conti, io dico solo con molta simpatia che in questi mesi molti gruppi locali del Movimento mi chiamavano e mi dicevano qui è venuto Salvini perché tu non ci sei e io mi chiedevo magari che fosse solo un problema legato alla presenza a Roma, forse stavo troppo nel Ministero. Adesso ho capito perché lui riusciva a fare più piazze di me, io utilizzando solo i voli normali di linea ho qualche difficoltà in più.